Questa storia Giorgio, anche per me in un certo qual modo, inizia in Sicilia tanti anni fa, ancora prima delle stimmate, con un uomo che tu hai amato, che io ho amato, che Eugenio Siragusa, con un posto particolare che addirittura sin dall'antichità ha ritenuto un luogo sacro, l'Etna. Ecco, che significato ha avuto agli inizi e che significato ha oggi per te? Hanno questi due elementi, Eugenio e l'Etna. Un significato emozionante, le origini, c'è la mia figliola Sonietta che quando va sull'Etna, lei non ha mai conosciuto Eugenio, è stata cresciuta con i valori spirituali, ma non ha vissuto come noi, eppure quando va lì, con i suoi amici, qua è nato tutto, qui sono le nostre origini. E ha ragione, perché hanno l'origine della mia famiglia, tra l'altro la mia famiglia Bon Giovanni è formata anche da mio fratello che continua, con il suo modo ovviamente che io rispetto, ma magari in modo diverso dal mio, ad andare avanti a seguire le origini di Eugenio. Quindi è tutto per noi, inizia tutto lì, eppure anche Eugenio, io ripeto un po', io perché sono un personaggio pubblico, ma non è che mi voglio vantare che mio fratello o altri che seguono Eugenio sono meno, sono un personaggio pubblico per le mie storie, diciamo, mistiche, e quindi io, la sua storia è quella lì. Eugenio dava molto fastidio al potere, quindi è stato denunciato, arrestato, sempre però da tradimenti interni, perché il potere quando si infiltra, la migliore attività è, diciamo, ostacolarti dall'interno, ma poi la giustizia ha trionfato perché lui era innocente, come ha dimostrato esserlo. La montagna è sagra perché lì abbiamo avuto tutti esperienze, forse anche tu stesso, con gli extraterrestri, chi più da vicino, e quello è il nostro Sinai, non ho ragione di credere che forse addirittura, questo non lo so, Gesù atterrerà lì, ma certamente le grandi astronave atterreranno lì, che ti devo dire, io quando vado sull'Etna vado nel Sinai, non ci posso andare a scalzo, ma meriterebbe quella montagna che tu ci vada a scalzo.